Chi sono da un carino? Eh, è perfetto, è ben uguale. Impegno con gli italiani. Ancora già il fiato che parliamo. Tra Silvio Berlusconi e i cittadini italiani. Io non mi presto a queste stronzate. Nella mia vita ho creato da Presidente del Consiglio un milione e mezzo di posti di lavoro. Eh sì, sì, cazzo. Un milione e mezzo? No, che sono cresciuti. Un milione? Un milione, dai, su, era un milione. No, un milione e mezzo. Ma che cazzo stai a dire? Ma anche l'Università di Siena la te. Un milione e mezzo. E su questo ci scopriamo da sempre. Non sono nell'ultima. Oh, mancetta l'annappiappiculo, questi. Un giovane su tre non lavora. Ma davvero? Però come mio lavoro, quello di creare posti di lavoro. In che senso? Il mio lavoro sarà creare posti di lavoro. Voglio proprio vedere come... Ho un obiettivo. Il tasso di disoccupazione sotto la media europea. No, questa non accetta, mi dispiace, c'è un limite ogni cosa. Due, tre punti sotto avremo la piena occupazione. Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio? Io... Vuole che non glielo firmi o... No, 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 firmi, firmi. Lo devo firmare. Ma non staremo a fare una cazzata? Io faccio una firma speciale. Cioè, che cos'ha di speciale la mia firma? Si legge. Io firmo alla grande, così. Silvio. Si può Berlusconi? Si può Berlusconi? Berlusconi. Io mi sono fatto un nodo su sto fatto. No. Che me da pure i problemi alla prossima. No, no, senta, mi piacere. Che faccio, un scioglio?